Mi sono laureata in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un'esperienza come ricercatrice nel 1999 ho iniziato a lavorare in Comau nell'ambito di un progetto europeo per giovani neolaureati in collaborazione con il CRF. Comau è fornitore di sistemi e mezzi di produzione ed è organizzata in quattro unità di business o di welding, powertrain, aerospace e robotica in service. Il mio percorso professionale è cominciato nella business unit robotics nell'area di ricerca e sviluppo ed oggi ho la responsabilità per il settore automotive e europe. Ho scelto Comau come tenda del gruppo Fiat per diversi motivi perché è leader nella ricerca di tecnologia innovativa per un continuo miglioramento dei processi di produzione perché è l'azienda del gruppo che realizza le macchine per costruire le macchine. Per un laureato in ingegneria elettronica è un ambiente stimolante ricco di opportunità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista professionale. È un'azienda che lavora per progetti e per avere successi e risultati è necessario un efficace lavoro in team in cui si condividono i valori aziendali come rispetto, responsabilità, affidabilità che ci consentono di lavorare in un clima sereno in cui ciascuno con entusiasmo dà il proprio contributo. Comau, molto attenta allo sviluppo sostenibile, supporta i suoi clienti nell'applicazione di tecnologie produttive per il risparmio energetico attraverso una sua unità di business dedicata, la Icomau. Ogni nuovo progetto in cui vengo coinvolta è una sfida per me e per il mio team. Come tecnica leader ho la responsabilità di definire con il cliente le soluzioni tecniche da adottare, di seguirne gli sviluppi nell'ambito di engineering, di seguire il cantiere in fase di startup e messa in funzione. Fino ad oggi la sfida più stimolante che ho affrontato è quella di un progetto in ambito di sigillatura, dove per la prima volta, ed è un primato mondiale, vengono realizzate in automatico le sigillature estetiche di un fotone. Far parte di Comau e quindi del gruppo Fiat significa operare in una realtà bidimensionale, dove le due dimensioni, globale e locale, si intersecano quotidianamente. Ho l'opportunità di interagire con colleghi e clienti di diverse parti del mondo che in qualche modo hanno un impatto favorevole sulla mia crescita professionale e questo ti porta a poter affrontare progetti sempre più innovativi, sempre più complessi e con obiettivi sempre più sfidanti. Avere un background professionale di questo tipo mi offrirà l'opportunità in un futuro di poter affrontare anche ruoli diversi nell'ambito del gruppo Fiat. Per un ingegnere neolaureato mi sento di affermare che Comau è un'importante opportunità per lavorare in un contesto altamente tecnologico ed innovativo. L'elevato contenuto tecnologico del prodotto e la necessità di stare al passo con i tempi, dal punto di vista dello sviluppo e spesso di anticipare la tecnologia di domani per soddisfare le richieste dei nostri clienti, sono sinonimi di costante crescita professionale. Il mio tempo libero è dedicato in particolare alla mia famiglia e agli amici, ma la mia passione sono i viaggi, mi piace l'idea di conoscere nuovi paesi e scoprire nuove culture. Viaggiare mi ha insegnato ad adeguarmi più velocemente ai cambiamenti e a migliorare meglio con colleghi e clienti internazionali.